Oggi abbiamo sottoscritto questo accordo, questo comodato d'uso gratuito che per il Comune mette a disposizione per realizzare nell'ambito del nostro poliambolatore nel distretto di Montorio un centro radiologico di primo livello con tutte le dotazioni e attrezzature necessarie per rispettare una radiologia di base. È un'attività importante, è voluta fortemente dal sindaco e noi siamo stati entusiasti di poter realizzarla anche perché tutte le somme sono state reperite dal sindaco stesso sia attraverso un fondo dell'agenzia di coesione territoriale sia attraverso altri fondi reperiti direttamente dall'amministrazione comunale di Montorio che ammontano complessivamente 1.360 euro, a breve possiamo andare in appalto perché il progetto è già tutto pronto, andremo in appalto e a fine giugno inizieranno i lavori per essere riconsegnati in sei mesi, quindi a fine dicembre avremo questa struttura che rappresenta una nicchia nell'ambito della sanità della mana perché è la prima che viene realizzata al di fuori di una struttura ospedaliera quindi avrà un ruolo fondamentale per l'abbattimento, come possiamo dire, per dare supporto sia all'attività ospedaliera e soprattutto per dare un servizio dignitoso alle 30.000 persone dell'alta Valvomano e dell'alto Nella Laga Io ringrazio il direttore di Giosia, il presidente Marsiglio perché insieme abbiamo sognato di dotare un territorio di un centro radiologico che vuol dire rispondere all'80% dei bisogni della medicina di base a livello strumentale e soprattutto anche la prevenzione, pensiamo ai mammografi, alle donne, ai controlli sul tumore è un sogno che diventa realtà, mi sono impegnato al Ministero, all'Agenzia della Coesione Sociale a trovare questi fondi e poi l'ASL li sta mettendo a terra quindi a breve partiranno i lavori, entro l'estate e per fine anno non solo Montorio ma tutto l'entroterra avrà un centro radiologico che sarà anche un'apripista per tutto il territorio della provincia perché è il primo centro radiologico all'interno di un poliambulatorio oggi c'è stata la firma di una convenzione di incomodato d'uso gratuito perché il poliambulatorio, l'immobile, il building è del Comune di Montorio all'Uomano ma l'abbiamo quindi dato incomodato d'uso gratuito al laser è un poliambulatorio che c'è da decenni però anche questa parte di riallineare le carte amministrative è importantissima